Non parliamo di sondaggi, ma le faccio un'ipotesi che mi viene sottoposta dai follower di Twitter. Se Grillo si trovasse ad essere il secondo partito, il PD si allerebbe con lui? Guardi, il modo con cui Grillo sta sulla scena politica, il suo populismo senza, mi lasci dire, senza costrutto, può essere un'ultima valvola di sfogo nel momento in cui tante cose non vanno bene e tanta disperazione vive nella condizione materiale di vita di tanti italiani senza lavoro, che non trovano lavoro, ma che questo serva a costruire la ripresa dell'Italia o serva a costruire un governo stabile e che duri nel tempo e accompagni il paese fuori dalla crisi, francamente io non credo proprio. Quindi lei non pensa che se anche Grillo arrivasse al secondo posto, nelle elezioni potreste costruire con lui un progetto di governo che guardi proprio a quei quarantenni, cinquantenni che stanno perdendo il lavoro, che guardi ai giovani che non lo trovano? Non è possibile pensare a un'alleanza su temi così importanti con Grillo? Non è che non è possibile, io lo escludo proprio, quando Grillo va di fronte ai cancelli di una fabbrica dove ci sono decine e decine di disoccupati e promette senza spiegare come mai farà a pagarli un mille euro al mese per tre anni, senza dare un'indicazione circa il modo con cui questo può essere fatto, io mi accorgo di essere di fronte a un populista demagogo che non solo non ha ricette per il paese ma usa la campagna elettorale per illudere gli italiani. Non è possibile allearsi con un soggetto politico così. Avete visto, credo che l'abbia visto anche lei se ha tempo in campagna elettorale di guardare i Tg, Mussari in procura urla monetine e ieri Beppe Grillo che ha chiesto una commissione di inchiesta per tutti i vertici del PD dal 95 ad oggi. Francamente mi pare che la proposta di Grillo sia una proposta avventata ma possiamo fare tutte le commissioni di inchiesta che vuole Grillo perché tanto non si troverà niente, non c'è nessun legame tra il PD nazionale e il Monte dei Paschi di Siena piuttosto un paese serio si interrogherebbe su questo smottamento, problemi nella più grande impresa italiana, fin meccanica, problemi molto seri con Leni, problemi col Monte dei Paschi di Siena, quindi anche una preoccupazione di arginare una ostilità o una diffidenza nei confronti del sistema bancario italiano. Insomma noi ci troviamo di fronte al crollo di un sistema, i responsabili politici di questo sono molto facilmente individuabili, io credo che la prima cosa che dovremmo fare è una legge sulla corruzione che valga la pena di essere chiamata così è un sforzo straordinario perché il riavvio e la crescita dell'Italia avvengano nel senso e sotto il titolo della moralità, della legalità, non perché sia uno slogan da campagna elettorale ma perché è un requisito della modernità di un paese. Senatrice Finocchiaro, secondo un dossier del Fatto Quotidiano pubblicato oggi, il suo partito, il Partito Democratico, dovrebbe quasi 200 milioni di euro alle banche. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il vostro tesoriere Sposetti ha detto che problema c'è, lo pagherà lo Stato, quindi lo pagheremo noi cittadini? Guardi, francamente ho letto anch'io questa complicata e molto intricata vicenda raccontata dal Fatto Quotidiano, della quale peraltro non so assolutamente nulla. Quello che ricordo e posso dire è che quando i DS furono sciolti ci fu un gruppo di militanti che ricostituirono, diciamo così, il vecchio DS, immagino anche con qualche ambizione di diventare i titolari complessivi del partito di sciolto, ma più di questo francamente non le saprei dire. Guardi, io cito il suo segretario Bersani, Berlusconi ci ha lasciato in una catastrofe morale, però è una catastrofe di cui voi, il PD, siete stati testimoni. Cosa potevate fare e non avete fatto? Non credo più di quello che abbiamo fatto e tanto l'abbiamo fatto bene, lo ripeto, che proprio facendo l'opposizione al governo Berlusconi siamo diventati nel voto degli italiani nel primo partito del Paese. Evidentemente abbiamo fatto bene quel mestiere.